Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi, finalmente, con immenso piacere, visto che lo volevo e l'avevo già adocchiato da un po' di tempo, vi presento World of Warcraft, Wrath of the Leech King, gioco che utilizza il sistema di Pandemic in questa edizione italiana a cura di Asmod Italia, che io ringrazio come sempre di cuore e immensamente per avermi fornito questa copia per la recensione ed è sempre un grandissimo piacere collaborare con voi. Quindi, gioco cooperativo, quindi lo conoscete tranquillamente, il sistema di Pandemic è sempre quello ed è diventata una figata assurda perché è un sistema, un nuovo sistema universale. Vi faccio vedere cosa c'è dentro la scatola in questo primo video di unboxing, dopo la sigla. Vi ricordo che questo Wrath of the Leech King nel Pandemic System è un gioco completamente cooperativo in cui useremo vari personaggi di Azeroth nella battaglia contro il Leech King. Tra l'altro, piccola parentesi, l'espansione più bella che abbiamo fatto World of Warcraft, e penso siamo tutti d'accordo, è la Blizzard. E fra i personaggi ci saranno, ad esempio, Sylvanas Windrunner, c'è Lord Vryn, il re, il capo dell'alleanza, e poi ovviamente ci sono anche i personaggi del Lord, ci sono Thrall e molti altri. Vi faccio vedere cosa c'è dentro. La scatola è abbastanza grande, non è spessissima perché comunque non ha bisogno di 3.000 materiali differenti, per quanto in queste edizioni ci sono anche proprio le miniature fisiche che sono veramente carine, e vedete con la grandezza della mia mano. Pandemic System, World of Warcraft, Wrath of the Leech King, e anche la copertina, proprio nel classico stile della Blizzard, che mi piace da morire. Apriamo. All'interno abbiamo il piccolo e veloce regolamento, che ci fa vedere tutto quanto il contenuto, e ad esempio le fortezze e tutti quanti gli edifici ovviamente sono fatti in cartoncino, mentre le miniature, che ce ne sono anche un bel po', non sono esageratamente grandi, ora ve le faccio vedere, però ci sono 7 eroi, ovviamente Arthas e Leech King, e addirittura 36 gold, più tutte quante le carte e i token. All'interno abbiamo questo cartoncino, vedete con tutte quante le strutture che devono essere montate, tipo anche il classico palazzo, quello congelato di Arthas, e poi qua sotto abbiamo la mappa di gioco, che ora vi faccio vedere aperta, una bella mappona di gioco, che fa vedere tutte le parti più importanti di Northrend, come vedete ad esempio Dalaran e tutti gli altri posti, con la rocca della corona, che è il palazzo di Arthas del Leech King, e poi tutte quante le zone dove vi potrete muovere con i vostri personaggi, ve le farò poi vedere meglio ovviamente la mappa in fase del video del cosa ne penso. Abbiamo i dadi e dei segnapunti, e poi sono piccoline, perché ovviamente Pandemic è anche un gioco in scala, comunque abbiamo un bel po', una bustina con 36 goal, che anche ripeto un'altra volta, se sono piccolini, però alla fine sono bellini, invece di vedere cartoncini o token, fanno veramente secondo me la differenza in un gioco, e poi in questo sacchettino qua dentro, abbiamo i villi servi giganteschi, i goal quelli giganti, praticamente i grassoni del Leech King, che sono qua, per poi ovviamente passare alle carte di gioco, ai mazzetti di carte, come vedete tra l'altro anche il tipo di disegno che c'è sopra, molto 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 in stile Blizzard, è veramente bellino, ricordano anche un po' i disegni sulle carte di Hearthstone, ad esempio, carte delle missioni, e degli obiettivi, e poi qua dentro, dentro questa scatolina qua giù, ci sono le miniature degli eroi, abbiamo ad esempio Sylvanas, perché come ripeto ci sono eroi uniti, ovviamente il Leech King è il nemico di tutti, quindi ci sono eroi sia dell'Alleanza che dell'Orda. Un altro personaggio importantissimo dell'Alleanza che è Re Vryn, è il magnifico Tral dell'Orda, ragazzi, L'Octaro Gar, io penso il personaggio più iconico in assoluto è lui, anche perché, piccolo cenno di lore, ai tempi di, l'avete visto anche nel film e nei videogiochi, Warcraft 1 e Warcraft 2, il re dell'Alleanza non era Re Vryn, ma era Lothar, Anduin Lothar, e c'era già Tral ai tempi, quindi Tral ha vissuto varie epoche, e vari signori dell'Alleanza che si sono succeduti, però lui è sempre rimasto, è bellissimo. E poi il Lich King, Arthas, il figlio del re, colui che ha ucciso suo padre, è andato fino a Northrend, in Warcraft 3, per prendere la spada Frostmourne, vi ricordate? Frostmourne ha fame. E poi si è trasformato nel Lich King, ragazzi, il cattivo, il villain più iconico, di tutta la saga. Come avete visto, c'è un bel po' di contenuto in questo gioco, e miniature che, per quanto sono piccine, ma ci sono, non ci hanno messo dei token a rappresentare, quindi è bellissimo, da rappresentare sul tavolo. Miniature un pochino in scala epic, come mi ha ricordato mia moglie, e a breve seguirà il video, cosa ne penso. Ciao ragazzi, alla prossima!